Domenica si va a giocare a Taranto, un campo complicato, a rendere ancor più memorabile il match, un derby in famiglia tra te, tuo padre e Dante. Sì, sarà una partita prima di tutto difficile, perché è un campo complicato, poi ci sarà anche quest'altra cosa che la renderà speciale, la prima volta che giochiamo contro ci sarà gran parte della famiglia a vederci, quindi anche questo è un'aggiunta in più al valore della partita. Un ulteriore test emozionale per te o sai già che rimarrai freddo sapendo che in panchina dall'altra parte c'è tuo padre? No, no, un po' emozionale sì, lo è stata anche questa partita con Modena essendo la prima da ex giocatore, lo sarà anche questa con Taranto visto che sarà la prima sfida in famiglia. Quali sono gli aspetti della partita, gli aspetti tecnici che possono creare problemi alla tua Lube? Ma loro si sono dimostrati in questo inizio di campionato una squadra che può dare molte difficoltà agli altri in battuta, hanno dei buoni battitori anche con la difesa, quindi dovremo essere pazienti a giocare azioni lunghe e cercare di portarne il più possibile a nostro vantaggio perché può essere un aspetto importante che può decidere la partita. Oltretutto siete in cerca della prima vittoria esterna in campionato, quindi è fondamentale per voi rompere il ghiaccio? Sì, siamo riusciti a fare la prima in challenge, adesso dobbiamo concentrarci per fare la prima in campionato, quindi ci metteremo tutta la volontà e tutta la voglia per ottenerla.